Buonasera amici di Torre Calcio Spagnolo, benvenuti al nostro nuovo podcast, questa sera abbiamo con noi Daniele Morrone, il just e penna di Ultimo Uomo, profondo conoscitore di calcio internazionale. Ciao Daniele, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ma prima di cominciare con l'analisi, volevo farti una domanda a livello personale, Daniele, perché tu non solo sei un conoscitore di calcio internazionale, preparatissimo, soprattutto su Inghilterra, Spagna, ovviamente anche Italia, ma tu sei anche tifoso del Barcellona, spiegaci, raccontaci come e quando nasce questa passione per il club vallana. Sì, mi dovevo preparare prima, non mi aspettavo questa domanda sinceramente, quindi mi prendi proprio in contropiede. Diciamo che è iniziata per caso, nel senso che mi ricordo che vedevo le partite su PMC, che erano le partite della sera della Liga, in chiaro, e questa cosa mi ha permesso di vedere un calcio diverso rispetto alla Serie A, che era l'unica cosa che guardavo, parliamo degli anni 90, metà anni 90. Ero molto piccolo, ma mi ricordo questa cosa. Mi piacciono da subito i colori, i stadi, il tipo di gioco che facevano. Mi piaceva molto questo gioco più tecnico, più di... Vabbè, lo sappiamo tutti quanti, soprattutto se seguete questo programma cosa significa guardare la Liga. Proprio in quel momento è scoppiata la fenomenite del fenomeno Ronaldo e quindi sono da ragazzino che non aveva dieci anni, sono saltato a bordo perché avevo visto questo alieno, letteralmente un alieno sbarcato in Spagna che prometteva di cambiare per sempre come si gioca a calcio. Quindi mi sono messo lì e ne sono passate veramente tante, perché dopo un altro sono andate anche male le cose e poi per fortuna sono andate sempre meglio. Devo dire che probabilmente il periodo più bello per me è stato quello dell'arrivo di Rijkaard. Rijkaard a Barcellona mi ha fatto proprio definitivamente dire ok questa è la mia scuola perché non mi perdevo una partita, cercavo di seguire a fondo, giocavano come mi piaceva che una squadra giocasse, questo prima ancora di andare magari a vedere quello che era Guardiola, perché Rijkaard aveva rimesso la chiesa al centro del villaggio, se vogliamo dire così. Io avevo già ormai approfondito cosa significasse Barcellona per Barcellona, ma io il Barcellona, il Barça per Barcellona, per la Catalogna, per la Liga, che cos'era stato Cruyff quando è arrivato, cosa ha significato quindi questi ultimi ormai quasi 40 anni di calcio del Barcellona, sono andato a Barcellona spesso, sono stato un anno a studiare in Spagna a Madrid, ma l'ho fatto da tifoso in trasferto, ho cercato quindi di vedere il più partito possibile, sono andato a vedere l'Atletico Madrid, sono andato a vedere il Real Madrid, il Radio Vallecano, ma non era la stessa cosa, io avevo 18 anni ma non riuscivo ad avere la stessa fiamma di quando invece andavo al Camp Nou a vedere il Barcellona, quindi quando ho potuto dal punto di vista di un po' più di sicurezza economica diventare anche socio del Barcellona, grazie a quella che era la mia fidanzata che mi ha finanziato per regalo la prima tessera da socio del Barcellona, ho continuato da quel momento lì e adesso sono ormai qualche anno che sono anche socio del Barcellona non soltanto di cosa, quindi se c'è la porta e ve la prendete con la porta è anche colpa mia che ho votato per la porta. Grazie per questa spiegazione, questa curiosità, la tua passione. Partiamo subito con un argomento che sta tenendo banco in queste ore perché è la partenza di Kai Gundogan, Gundogan che tornerà al Manchester City, Gundogan che è stato lo scorso anno uno dei pochi a salvarsi e però è stato sacrificato in nome della massa salariale, c'era da trovare un giocatore che uscisse e che liberasse stipendi per iscrivere i nuovi giocatori, soprattutto Dani Olmo e questa diciamo è un'operazione tra virgolette logica a livello economico, forse meno logica a livello tecnico, però è un altro segnale che il Barcellona è ancora una nave che non sta navigando a mare aperto tranquillamente ma ancora sta imbarcando acqua. Che idea ti sei fatto su questa perdita di Gundogan? Secondo me Gundogan è stato il miglior giocatore del Barcellona nella scorsa stagione dal punto di vista delle prestazioni, il giocatore che ha permesso alla squadra di ricordarsi anche che si può fare un calcio diverso rispetto a quello che ci si potesse aspettare dal centrocampo del Barça fino a quel momento, un vero capitano senza fascia, uno dei pochi che aveva il coraggio di dire le cose come stavano all'interno dello spogliatoio e fuori qual era la realtà del Barcellona in quel momento, ovvero una squadra che aveva perso la capacità di essere vincente, non significa vincere o non la liga, significa ragionare in modo da squadra vincente. Quindi la sua perdita è più che grave, è devastante dal mio punto di vista nel come vedo io il calcio e in quello che rappresentava Gundogan per questa squadra, per questo gruppo e anche proprio il fatto che fosse uno dei giocatori più esperti come Lewandowski e Kerstegen. Servono sempre questi giocatori qua che dettano la via rispetto a tanti giovani, perché purtroppo il calcio non è FIFA, non si basa sul valore teorico che raggiungeranno i giocatori e non si basa sulle connessioni a caso, si basa su come giocano adesso, cosa sanno fare e quali sono le connessioni in questo momento che si creano tra i giocatori. Gundogan è un connettore ed è proprio quel giocatore lì che a centrocampo ti permette di alzare il livello medio della manovra. È una cosa devastante, il fatto che sia arrivato adesso, come hai detto giustamente tu, è un modo per mettere una pezza alla questione del fair play finanziario della Liga, che ricordiamo non è una questione del Barcelona che non ha soldi, ha soldi, ha liquidità, tant'è vero che ha preso Dani Olmo per 60 milioni. Il problema non è la liquidità, ma è rientrare nei parametri assurdi del fair play finanziario della Liga che sta stringendo il caffio alle squadre della Liga, non soltanto a Barcellona, ma quasi tutte quante le squadre. Il mercato tolto l'Atletico Madrid non c'è quasi stato nella Liga ad altri livelli, proprio perché ci sono delle manovre molto stringenti da dover fare. Gundogan aveva i 18 milioni più o meno di stipendio a bilancio, togliendo quelli là si poteva liberare spazio per poter iscrivere tra gli altri anche Dani Olmo. Scegliere di togliere lui rispetto a giocatori che sono meno forti e soprattutto altrettanto costosi come Arafuco o Frenkie de Jong. Era la mossa iniziale che voleva fare il Barcellona, che non ha potuto fare perché nessuno di questi giocatori è stato cercato. Arafuco e Frenkie de Jong, anche perché infortunati, Rafinha perché non viene dal momento migliore della sua carriera e le richieste economiche sono troppo alte per le altre squadre. Speravano in qualche offerta per questi giocatori, magari anche Gundé, anche lì, neanche un buon europeo ha funzionato. Arrivati a fine mercato hanno dovuto sganciare questa bomba e dire letteralmente ok per favore sei quello che deve andare. Lui finisce in una squadra migliore del Barcellona perché torna al Manchester City, buon per lui, dispiace però di perdere un giocatore di questo livello che non puoi recuperare sul mercato. In questo momento Frenkie de Jong non è Gundogan, quindi pensare di avere Frenkie de Jong titolare al posto di Gundogan significa avere un Barcellona che gioca peggio rispetto a quello che sarebbe questo Barcellona con Gundogan. Per non parlare poi del fatto che è il teorico centrocampo della Masia di cui adesso parleremo meglio. Tante prospettiva, in alcuni tantissima, in altri buona prospettiva. Avere o meno Gundogan ti cambia il potere o meno ambire con più sicurezza la Liga. Questa cosa il Barcellona sta cedendo una sicurezza per sperare di poter prendere magari qualcun altro oltre a Dani Olmo e a iscrivere Dani Olmo. È una scelta più economica che di campo. Sono sicuro che a Flick se gli avessero chiesto a parità di costi preferisce o non preferisce avere Gundogan avrebbe risposto ovviamente voglio Gundogan. Ai microfoni ha detto lui voleva giocare con Gundogan. Così non è stato e ce la prendiamo. Non è la prima, non è l'ultima. È andato via anche Messi per questione economica. Quindi figuriamoci se Gundogan non può andare via per questione economica. La realtà del Barcellona, come dicevi tu, è che è una squadra che naviga a vista. Non può fare altro che sperare di trovare un compratore per i giocatori. Questo compratore ogni tanto non c'è. In questo momento nel mercato non c'era. L'Engley è ancora un giocatore del Barcellona. L'Engley che guadagna una cifra spropositata è ancora un barcellonista. È incredibile ma è così. È uno degli ultimi residui dell'era Bartomeu, credo, tra l'altro. Sì, esatto, uno dei... chiamiamoli residui. Forse non è la parola giusta, però lascia intendere. Tra l'altro mi ringrazio per l'omaggio a Gundogan con la tua maglietta della Germania, ex capitano della Germania che è ritirato anche dalla Nazionale. Si è ritirato pure lui, sì. Anche Neuer, tra l'altro, adesso saltiamo un po'. Ha annunciato oggi il ritiro dalla Nazionale, quindi il posto titolare sarà finalmente per il nostro Marc-Andrath Stegen. Che è anche capitano del Barcellona da quest'anno. Il capitano della Barcellona. Speravo fosse Gundogan il capitano, ma non c'è proprio Gundogan, quindi va bene anche Ter Stegen, che è anche quello che è stato da più tempo. Anche se ultimamente devo dire che le prestazioni non sono tali da poterne fare, il capitano, il discorso. Penso che dal punto di vista carismatico effettivamente, forse Lewandowski è quello che sta tirando molto di più al punto di vista carismatico questa squadra. Può che sia ormai anzianotto, che non possa pressare, tutti i discorsi che sono validi, ma quando vedi che Lewandowski chiama palli i giocatori che lo danno, quando lui si ferma a parlare i giocatori si fermano, e questo è solamente quello che fa un capitano. Oltre al fatto che se lo tocchi e fallo, questa cosa anche a sua volta. E che se gli lasci un centimetro in area, ancora la mette dentro. Perché adesso un Barcelona senza nemmeno Lewandowski, cioè sarebbe una squadra che faticherebbe ad arrivare sicuramente in Champions League, faticherebbe molto ad arrivare in Champions League, ma secondo me se la dovrebbe giocare per arrivare anche in Europa League. C'è una squadra che fatica a segnare senza Lewandowski, molto semplicemente non fai 60 gol. Sì, l'abbiamo visto anche lo scorso anno, quando Lewandowski ebbe un periodo un po' timagra, il Barcelona non segnava. Da questo punto di vista si capisce l'idea di prendere Dani Olmo, perché è proprio uno di quei giocatori che può accendendosi arrivare alla doppia cifra tranquillamente di gol, e quindi vai ad aggiungere gol in una squadra che è cronicamente assente, di giocatori che segnano. Quindi sì, Lewandowski è in questo momento, per quanto, dicevo, anziano, per quanto ha momenti di forma più o meno negativi, perché ovviamente ha l'età che ha, 30 anni, quello che è, e quindi ovviamente questo è, ma quando è in forma, quando la va allenare, lui segna, gli altri no. E questa cosa è vero. Sì, abbiamo nominato il tecnico, anzi Flick, perché il Barcelona già da questo è stato un nuovo allenatore, Xavi se n'è andato, la sua uscita è stata abbastanza traumatica, qua un paio di parole su Xavi, secondo te è stato giusto con il cambio, forse era dimostrato che l'incarico gli stava chissà magari topo grande, un incarico così, anche logorante dal punto di vista mentale, forse al di là del discorso tecnico, perché si sa che profeta in patria non è nessuno, lui è stato chiamato quasi a petizione popolare ai tempi di Koeman, la porta addirittura sembrava che non lo considerasse come prima scelta, poi è arrivato, ha vinto la Liga, però gli è mancata continuità la scorsa stagione e quindi c'è stata questa uscita, che idea ti sei fatto su questo cambio? Probabilmente Flick era il meglio sulla piazza al momento libero per questo Barcelona, no? Secondo me è giusto se cambi Xavi e prendi una persona tipo Flick. Sì, allora vorrei innanzitutto ricordare il fatto che Xavi i suoi obiettivi li ha raggiunti con il Barcellona, perché lui è arrivato in una situazione devastata. in una squadra che non aveva veramente più capacità di vincere una partita, una squadra che non sapeva più vincere ed è riuscito a ricostruire da zero praticamente, perché Koeman ha lasciato le macerie, qualche giovane ma per il resto macerie, a ricostruire una parvenza di sistema tattico, una parvenza di coesione dello spogliatoio, si è preso molte responsabilità davanti ai microfoni, ha fatto quello che poteva aspettare da Xavi e ha vinto, ha vinto la Liga, te la devi ricordare, non è una cosa, è un dato di fatto come poteva essere dieci anni fa. e poi ha dato anche credibilità in Europa al Barcellona che non aveva ormai da troppo tempo, da 7-8 anni il Barcellona in Europa era una squadra fragile mentalmente. Lui è riuscito a dargli un minimo di credibilità, è arrivato fino ai quarti di finale di Champions League che non era per niente scontato ed era l'obiettivo giusto per questo Barcellona, è uscito contro una squadra più forte come il Paris Saint Germain, è uscito sparandosi sui piedi ma è il Barcellona quindi questa cosa ce l'aspettiamo, può succedere, nel complesso il suo ciclo secondo me l'ha fatto, l'ha fatto anche bene, non verrà ricordato come il migliore allenatore della storia del Barcellona, non verrà ricordato come uno dei migliori cinque allenatori della storia del Barcellona, ma verrà ricordato come un allenatore che ha comunque fatto quello che doveva fare. Detto questo andava cambiata la situazione, cioè era arrivato a fine ciclo chiaramente, hai detto giustamente tu, logorato soprattutto dal punto di vista psicologico, era arrivato a un momento in cui davanti ai microfoni rischiavi che potesse dire qualcosa di grave da un momento all'altro perché era arrivato veramente alla fine, il suo ciclo si era già concluso dal punto di vista tattico l'anno della Liga vinta, la scorsa stagione è stata abbastanza negativa dal punto di vista tattico, la squadra si è fermata e si è affidata alla fortuna di aver trovato la mini Yamal, molto semplicemente, e che ancora una volta Lewandowski segnava i gol. Tolti questi due è stata veramente abbastanza disastrosa dal punto di vista tattico e quindi era chiaro che dovesse venire un allenatore in grado di ridare un minimo di serenità dal punto di vista tattico, di dare un ciclo nuovo a questa squadra. Dici giustamente tu, Flick era tra i papabili migliori, probabilmente proprio per come è la figura di Flick che ha già allenato nel Bayern Monaco, che conosce le squadre grandi, che conosce cosa significa allenare una squadra come il Bayern Monaco e quindi anche il Barcellona, hai una sicurezza che è uno che ci sa fare con la stampa, ci sa fare con i giocatori, è uno di quelli che mandava i messaggi al mini Yamal durante l'Europeo per aiutarlo, per fargli dire che si deve andare alla grande, questa cosa la mia mamma l'ha ricordata, quindi che riesce a instaurare un certo rapporto, lui era un rapporto ottimo con lo spogliatoio del Bayern Monaco, che ricordiamo è lo spogliatoio più caldo del mondo, era quello che fa fuori gli allenatori, l'unico allenatore che non è stato fatto fuori dallo spogliatoio del Bayern Monaco è Flick, quindi questa cosa secondo me già di per sé dà l'idea di essere un allenatore che al mondo ci sa stare, ovvero di una grande squadra, e non è così scontato, dal punto di vista tattico Tuchel è un allenatore più preparato di Flick, è un migliore allenatore dal punto di vista meramente tattico, ma Tuchel lo spogliatoio del Bayern Monaco non l'ha tenuto, Tuchel dopo un po' è andato in burnout, e questa cosa Flick non l'ha fatta, forse Tuchel avrebbe costruito un Barcellona sulla carta tattica migliore rispetto a questo di Flick, probabilmente, avrebbe retto le pressioni di allenare il Barcellona, non ne sono così sicuro, Flick lo sta facendo, e quindi dicevi giustamente tu per una squadra in questo momento Flick era probabilmente la migliore possibilità, non può prendere Klopp e quindi non può tornare Guardiola, ti prendi uno come Flick, non sarà Ancelotti, ma comunque stai nella parte alta degli allenatori in Europa. Sì, anche perché poi c'è un buon palmarès, nonostante che ha iniziato ad allenare tardi, perché lui è stato per tanti anni l'assistente di Jogi Loth con la Germania, poi si è messo in proprio, diciamo, quando fu chiamato dal Bayern di Monaco e partì con un triplete, credo, la prima stagione con i bavaresi, poi fu chiamato anche con la nazionale tedesca, dove, va detto, non ci si aspettava forse qualcosa in più, ma era una fase di transizione nella nazionale tedesca che solo adesso ci sono viste, diciamo, le migliorie, però lui ha perso in mano la nazionale, ecco, in quei due o tre anni dove c'erano ancora tante cose del passato e poche facce nuove che adesso invece si è ritrovato a Nagelsmann. Flick che ha esordito con una vittoria sul campo del Valencia, il Valencia comunque sia un campo sempre difficile, come? Campo caldo, Valencia. Sì, nonostante, ecco, non sia più il Valencia di dieci anni fa, comunque sia il Valencia un campo sempre difficile, una squadra che poi si conoscono a memoria, con Ruben Baracca, squadra aggressiva, quindi era forse, non dico, la peggiore situazione per iniziare, soprattutto il Barça dei giovani, eccetera, e Flick si è presentato a un 4-3-2-1 molto offensivo, ha fatto giocare Rafinha, la miglia male, Frenatore e Diasole Vandoschi, poi nel secondo tempo c'è stata questa correzione con l'ingresso di Pedri, però fondamentalmente c'è stato un Barça abbastanza offensivo, un Barça con 3-2007, perché parliamo di Pao Kubarsi, che già lo conosciamo, la miglia male, non c'è bisogno di presentazioni, però troviamo Mark Bernal, questo mediano, questo pivote, che ricorda moltissimo Busquets, magari presto per dirlo, però, e poi troviamo anche Mark Asadou, un altro, credo sia un 2003, che viene dal Barça B, quindi diciamo, questa vittoria non solo con i tre punti, ma anche con queste prestazioni, Mark Bernal veniva da un trofeo gamper, dove aveva fatto un errore sul gol del Monaco sull'1-0, però ha dimostrato personalità, non solo nel giocare titolare in un campo caldo come Mestaglia, ma anche di sfornare un'ottima prestazione. Anche a te ti ricorda un po' Busquets, Mark Bernal, o è presto per dirlo? Ah, iniziamo proprio con la bomba, pensavo ad iniziare più tranquillo, va bene, allora iniziamo con Mark Bernal, in alcuni gesti, nei movimenti del corpo, è un giocatore longilineo, molto alto, elegante, può ricordare Busi, dal punto di vista di stile di gioco direi di no, Bernal è un giocatore che ha un rapporto diverso con il campo, un rapporto diverso nel senso che gli piace muoversi tanto, gli piace interagire tanto con diverse zone del campo, ricevere magari solo a tre quarti, nel Barça B giocava praticamente lui come quasi trequartista, a volte giocava come mezzala, ma era molto offensivo, andava molto davanti. Questa scelta di Flick, di inserirlo come giocatore bloccato e Casado come giocatore un po' più avanti, in realtà è una scelta di Flick, perché teoricamente dovrebbe essere il contrario, teoricamente Casado dovrebbe essere il giocatore che si occupa dell'uscita del pallone dalla difesa e Bernal quello più libero di muoversi e di interagire anche con gli attaccanti, quindi è una scelta forte di Flick, soprattutto perché Bernal a tre anni gioca davanti alla difesa nel Barcellona, è tre anni più giovane rispetto a quello che era Busquets quando giocava con Guardiava la prima stagione, tre anni più giovane, quindi è un giocatore ancora che può diventare qualsiasi cosa, probabilmente può diventare anche un altro Busquets da tutto il tempo del mondo. La tecnica c'è, la visione di gioco è evidente, ripeto, in questo momento è un giocatore più anarchico, tra virgolette, gli piace di più fare quello che si sente, è anche normale vista l'età e visto che fisicamente era dominante a livello under, quindi trovandosi a giocare in modo dominante sei Pogba più che Busquets, questo è il discorso. L'idea di farne il nuovo Busquets ha senso, se riesci a inquadrarlo, ad esempio non è successo con Nico González, se vi ricordate Nico era l'altro centrocampista alto, possente delle giovanili del Barcellona che doveva anche lui adattarsi davanti alla difesa, essendo una mezzala che si muoveva tanto, non ci è riuscito ed è stato scartato da Xavi, adesso si trova al Porto, gioca benissimo come centrocampista nel Porto, un giocatore che io vorrei ancora nel Barcellona, ma si è capito che non sarà mai il numero 4 nel Barcellona, che è quello che fa da perno davanti al difesa, Busquets guardiale a quello che è. Bernal, vediamo, c'è tanta speranza, è considerato nella Masia uno dei centrocampisti più promettenti degli ultimi anni, io ci vedo veramente tanto potenziale, però è un ruolo talmente complicato da gestire ed non è un caso se solitamente sono i giocatori più esperti quelli che poi funzionano bene in questo ruolo, quindi vedremo più avanti. Il fatto che Flick ci abbia scommesso subito è un ottimo voto a favore di Clip, perché non era scontato, poteva tranquillamente decidere di rimanere sui giocatori più conosciuti, invece lui ha fatto la pretemporada con Casado e Bernal dall'inizio, ci ha giocato, ha visto che potevano funzionare, ci ha investito tanto tempo e adesso ha deciso di farli giocare ai titolari, mentre non ci sono Gavi, non ci sono gli altri che giocheranno poi ai titolari quando arriveranno più avanti. Mi è piaciuta tanto questa scelta, perdi magari anche qualche punto, perché contro il Valencia nel primo tempo tranquillamente potevi stare 2-0 per loro se non avesse fatto quel salvataggio assurdo, cubarsi sulla linea, è una partita che potevi tranquillamente perdere, ma nulla toglie il fatto che hai investito dove devi investire, esattamente come con Cubarsi l'ascosta stagione, Chavi, o con la Minigiamale, cioè tu sai che perdi qualcosa con Cubarsi il titolare, perché non ha l'esperienza, ma tu sai che così hai un difensore per i prossimi dieci anni, e il Barcellona in questo momento storico deve fare così. La Minigiamale è un discorso a parte, perché lui è semplicemente un fenomeno, fuori dal tempo e dallo spazio, giocherebbe ovunque con chiunque, quindi è normale che sia titolare. Ti va di parlare però delle cose degli altri giocatori non così positivi che abbiamo visto in questa partita? Sì, certo. Perché io ho visto un Ferran Torres totalmente fuori dal progetto, non è un giocatore che può giocare in questo momento titolare nel Barcellona, come alla sinistra, questa cosa metteteci un pin, perché probabilmente se parliamo del mercato, quello è il ruolo proprio che Ferran Torres non può fare. Ho visto Rafinha che è stato sviluppato come trequartista da Hansi Flick, con quasi seconda punta, che nel primo tempo però non sapeva dove doveva correre. Nel secondo è stato un po' aggiustato il tiro, soprattutto perché è entrato Pedri, che è la trequartista più forte, quindi molto semplicemente si sono aggiustate le cose perché è entrato Pedri. Il centrocampo con Casado Bernal e Pedri è un'altra cosa rispetto a Casado Bernal e Rafinha. E soprattutto Rafinha non ti toglie tanto di ragionamento con il pallone, perché è un Barca che ha iniziato tantissimo in verticale e questa cosa si è vista con la differenza con il secondo tempo, quindi ha ragionato di più e ha disinnescato a quel punto il pressing del Valencia. E Niko Martinez, il centrale, non so, non conosce il fuorigioco, non ho ben capito come abbia fatto a sbagliare la linea sul gol del Valencia, ma non è la prima volta. È un buon giocatore da rotazione, ma tu non puoi fare una stagione con Niko Martinez e Kubarsi, quindi la speranza è che Christensen arrivi presto a titolare in questo Barcellona davanti alla difesa, perché rischia di essere un punto debole fondamentale contro le grandi squadre, il fatto di avere Niko Martinez centrale. Ed eccoci qua appunto alla lista dei giocatori. Di chi vuoi parlare? Io direi anche sulla difesa, anche il rientro di Eric Garcia, per esempio, che viene da un'ottima stagione a Girona. Eric Garcia, quello visto a Barcellona, non era un giocatore da Barcellona. Adesso rientra, ha fatto una buona Olimpiade, però non è la stessa cosa. Secondo te potrebbe essere la stagione definitiva, perché ancora è un 2000 o un 2001, che finalmente faccia quello step che gli è sempre mancato? Non penso abbia quello step, molto semplicemente. Cioè è un giocatore che all'interno di un sistema che va col pilota automatico può funzionare, il Girona andava col pilota automatico e lui ha funzionato, ma ha delle limitazioni atletiche. È semplicemente più basso della media, più lento della media, salta meno della media dei difensori centrali. Quindi non può giocare con la difesa alta. Flick fa una difesa molto alta. Eric Garcia è preoccupante se deve andare in recupero. E questa cosa lo limita come difensore centrale di titolarità nel Barcellona. Non significa che non possa essere un giocatore da rotazione, che nell'arco delle 60 partite che speriamo il Barcellona giochi, lui ne possa fare la sua ventina, ruotando in Coppa del Re, quello che è. Si può partecipare come quarto o quinto centrale. Non può essere, come Nico Martínez secondo me, non può essere titolare. Non può essere considerato come titolare. ritengo che la coppia Christian Sencubarzi sia la coppia su cui deve investire il Barcellona da qui ai prossimi due o tre anni. Anche perché adesso Araujo è infortunato, quindi comunque sia... No, no, sarò molto duro con Araujo. Araujo andava venduto, questo è stato. Sì, drastico. Se c'è un giocatore su cui puoi guadagnarci dei soldi, se sei il Barcellona in questo momento, lo devi fare. Soprattutto se non è indispensabile. Araujo non è indispensabile, è un giocatore di alto livello. Non sarà il giocatore che ti svolta la difesa del Barcellona perché ha dimostrato di avere delle lacune, anche lui nel suo caso invece ha tattiche tecniche, cioè di lettura con il pallone e di capacità proprio di fare i passaggi che ad esempio non ne ha Tritzen, non ha Kubarzi. Kubarzi a 17 anni passa il pallone meglio di Araujo che ne ha 25. È una questione proprio di livello tecnico. Quindi lo vuoi vendere in questo momento è perfetto perché tu lo venderesti prima che lui va a rinnovare un contratto a cifre che chiederà che saranno i suoi 15-16 milioni a stagione che non ti puoi permettere di essere il Barcellona. Se non lo vendi adesso puoi fare la scadenza e se ne va. Questa cosa non ha semplicemente senso di essere il Barcellona. Invece devi investire, lo fai su Kubarzi e lo fai mettendoci accanto un giocatore di esperienza che lo guidi come appunto Christensen. Mettere Kubarzi e Araujo insieme si è visto l'anno scorso che può succedere che entrambi vanno a vuoto in alcune partite. È un po' rischioso. Un altro che si poteva vendere era Kunde. Sono contento che non è stato venduto perché mi sta simpatico proprio come persona. Sono contento che giochi come il Barcellona, però anche lui è stessa identica cosa. Ha delle limitazioni come Terzino, ha delle limitazioni come Centrale. Nel suo caso sono anche le atletiche, altezza e velocità nel recupero. Questo significa che se lo puoi vendere adesso, se ti dà 50 milioni il Chelsea, glielo devi dare. Non è arrivata nessuna offerta e quindi lo tieni, titolare, ok. Araujo secondo me andava venduto. Poi si è fatto male e questa cosa ha portato con sé tutto quanto al discorso di Muldogan perché se tu non puoi vendere i giocatori qualcuno deve andare via. Usare un altro giocatore che avrei venduto di quelli a cui voglio bene? Frankie de Jong. Stessa identica situazione. Un giocatore che va in scadenza nel 2026 non rinomera il contratto perché a quelle cifre il Barcellona non può rinnovarlo. Andrà via probabilmente quindi a zero nel 2026, tu lo devi vendere quest'anno. Quando puoi farci 40-50 milioni. Non è fondamentale nel Barcellona, non lo è mai stato negli ultimi due anni. Prometteva di esserlo ma non lo è stato purtroppo. Nel suo caso sono anche questioni esterne, cioè sei sfortunato, ti è fatto molto male alla caviglia. È un tipo di infortunio da cui non si recupera facilmente, ha deciso di non operarsi, ha aspettato e adesso è tornato e non sta ancora bene. Quindi forse si doveva operare. Però sono quelle situazioni che vai a sapere qual è la scelta giusta. La scelta giusta era intervi a venderlo perché hai la possibilità di farlo. Se non va via a zero nel 2026, puoi scegli pure di farlo andare via a zero ma è un peccato se sei il Barcellona. Ma in questo momento sai già che il tuo centrocampo isolare tra tre anni sarà Bernal, Gavi, Pedri. Quindi andare in questo momento a investire ancora del tempo con Frenkie de Jong è quasi un spreco in modo molto semplice. Ma analizzando questa rosa, indipendentemente da come sono messe le casse del club, perché sappiamo che il Barcellona non è che si possa permettergli di fare tante operazioni, dove puntelleresti, dove c'è bisogno. Io penso sugli esterni difensivi un qualcosa. Adesso non so se forse un ritorno di Cancelo di nuovo si è parlato, però secondo me con Koundé e poi la sua riserva Ertofort, Canterano, Alejandro Balde viene da un anno praticamente fermo, c'è la riserva Ghera Martin che è un altro Canterano. Qua secondo me vedo un po' dove magari servirebbe un innesto, anche non dico di prima fascia, però magari anche numericamente un giocatore con un pizzico più di esperienza, no? Sì, spero non sia Cancelo, perché lui con tutta l'esperienza ha fatto uscire dalla Champions League. Spero di non vedere mai più Cancelo con la maglia di Barcellona, mi piace. Sarà contentissimo di giocare in un'altra squadra in cui farà i suoi bellissimi colpi di tacco e Rabone, qua però gli fa prende gol l'andate a ritorno. Questa cosa succede praticamente sempre con Cancelo. Quindi Koundé e Hector Forte, terzini destri, per me perfetto, top, va benissimo, ci sta. Alejandro Balde e Gherard Martin, lì va visto secondo me il fatto che Flick si è innamorato di Alejandro Balde, si è proprio innamorato, lo farà giocare titolare, sarà il titolare come terzino sinistro. Lui però torna da un gruppo infortunio, non sappiamo come stato atleticamente se regge una stagione intera, secondo me lì andrebbe preso un giocatore di esperienza che ti fa da accia per Balde. Il problema sono che il terzino è un ruolo molto complicato da andare a inserire, non è così semplice come sembra, perché chi vai a prendere non deve essere troppo diverso da Balde come giocatore, perché sennò devi cambiare il sistema di gioco, deve essere anche in grado di fare concorrenza ma non essere più forte, perché sennò poi Balde si trova magari in una situazione psicologica che non vorresti, quindi lì devono essere molto bravi a capire qual è, non può essere però penso Gerard Martino, tutto quanto l'affetto è un giocatore da seconda squadra, sta giocando bene in seconda squadra, vedremo forse tra un paio d'anni si sarà in grado di giocare nel Barcellona. Io l'acquisto l'avrei fatto, vabbè, ormai lo sappiamo, Nico Williams era l'acquisto del Barcellona, era perfetto, si calava alla perfezione su quella che era la necessità come esterno sinistro, un'ala dribblomani che riuscisse a creare superficie da numerica dalla fascia opposta rispetto alla Mignoghiamal, possibilmente come Nico Williams, cioè amico fraterno di Mignoghiamal che si conoscono, che sanno bene come giocare, giocano a memoria, un giocatore che possa dare tanti palloni a Lewandowski in anata di vigore, quindi dribbling, rifinitura, secondo me quel giocatore non è Dani Olmo, nel senso che Dani Olmo non fa quelle cose lì, fa tante altre cose in modo fantastico, ma più da seconda punta. Va bene, ma serviva proprio dal punto di vista numerico un'ala a sinistra che salti l'uomo ogni volta che lo punta. Non si può da Nico Williams, vedremo cosa succede con Chiesa, Chiesa non è Nico Williams ovviamente, l'avete vista all'europeo, la differenza tra Chiesa e Nico Williams, però la tipologia di giocatore è quella lì, cioè un'ala che salta l'uomo quando vuole, perché serve quella al Barcellona in questo momento. Mi è piaciuto molto l'investimento su Pao Victor, penso che possa essere effettivamente una buona riserva per Lewandowski nei minuti che dovrà giocare, un giocatore che dà tanto sfogo atletico. Trafigna va bene come riserva, cioè sia come riserva di Mediamal, come riserva di Dani Olmo, va benissimo da farlo entrare, è un giocatore importante perché anche lui andava venduto, non è stato venduto, quindi te lo tieni, non ha senso non utilizzarlo, ma se c'era da investire dei soldi, serviva l'ala sinistra. Non c'è, perché Dani Olmo non è un'ala sinistra, è una seconda punta che può partire dalla sinistra, ma non è la stessa cosa. Tu hai già il fatto che Flick sta investendo tanto tempo sulla mine Yamal che entra dentro il campo, non solo che riceve sulla linea laterale come faceva con Chavi, e quindi rischi che se metti insieme per troppo tempo tutti questi giocatori che vogliono venire a giocare sulla tre quarti ti manca un po' di capacità di saltare l'uomo sulla fascia. Condé non lo può fare a destra, Alejandro Balde è buono in conduzione, meno nell'ultimo passaggio, quindi rischi che se acquidi a lui troppo la rifinitura perdi un po' di precisione, e quindi lì serviva l'investimento. Vedremo. Si può anche decidere di non fare quest'anno, aspettare e farlo l'estate, prendendo Nico Williams l'estate prossima. Si può fare, però bisogna avere le idee chiare. Non fare niente per promuovere Daniel Olmo alla sinistra può essere fischioso, secondo me. Hai detto bene le idee chiare, perché in alcuni aspetti il Barcellona sembra non averle idee chiare. Qui apro una parentesi, c'è stato anche un cambio dirigenziale, perché c'era stato Alemani, il tandem Alemani e Jordi Cruyff, non ci sono più, adesso c'è Deco, l'ex giocatore portoghese di origine brasiliana Deco, che fa da direttore sportivo. Il caso clamoroso è questo di Vittor Roque, che è arrivato lo scorso gennaio come nuova stella del Barça, però lo scorso ha giocato poco, si è andato due gol, ha giocato quasi sempre partendo dalla panchina, è arrivata questa bocciatura abbastanza bruciante per lui, adesso si cerca una squadra per il futuro, probabilmente andrà in presto al Betis, sono queste voci, ancora non c'è niente di ufficiale, addirittura il Barcellona cercava anche di piazzarlo, di venderlo direttamente adesso. Non so che idea ti sei fatta su questo movimento un po' strano attorno a Vittor Roque? È una cosa che non ha fatto bene a nessuno, non ha fatto bene al Barcellona, non ha fatto bene a Vittor Roque, essere arrivato in quel momento storico per quella cifra è 40 milioni di fatto, è una cifra fuori di mercato per un giocatore che era considerato però l'attaccante più forte giovane in Brasile dopo Hendrik, addirittura per qualcuno in alcune cose in quel momento superiore ad Hendrik, una volta che il Barcellona che voleva prendere Hendrik evidentemente non ci è riuscito, ha provato a prendere Vittor Roque, ci è riuscito ma si è trovato un giocatore non pronto, Xavi l'ha bocciato subito, Flick l'ha bocciato subito, evidentemente io mi fido del loro occhio e se lo vedono che non è pronto, non è pronto. Questo Barcellona ha davanti, come diciamo, fatica a segnare quindi non si può permettere troppo di aspettare un giocatore, mentre lo può fare a centro campo, lo può fare anche, cioè può aspettare Alejandro Balde come terzino sinistro, lo può fare, non può aspettare la riserva di Lewandowski, se la riserva di Lewandowski non segna mai rischi che veramente la squadra scende perché Lewandowski non potrà giocare tutte quante le partite purtroppo. Ci sta il prestito, assolutamente, rivalutarlo tra un anno, un anno il Betis scelta perfetta, giocherà nella Liga, verrà visto bene in una squadra che vuole aprire il pallone, in una squadra che lo impegnerà tanto. Lui aveva mostrato dei difetti tecnici, cioè primo controllo, passaggio, reattività con il pallone, queste cose qui nel Barcellona pesano di più che nelle altre squadre, perché ti viene chiesto proprio quello. Non poteva quindi essere l'ala sinistra, la seconda punta partendo a sinistra titolare, per capirci, non lo poteva fare. Se deve stare in tribuna, meglio che vada in prestito. Venderlo adesso secondo me era una follia, perché non sai che giocatore è, rischi che magari lui effettivamente esplode, perché dal punto di vista atletico può essere un giocatore devastante. Guardate quelle gambe, cioè può essere un giocatore che può veramente fare pressing per 90 minuti, tagliare su tutti i palloni, andare su tutte quante le volte. In Brasile si è visto che lui faceva gol anche di semplice volontà, cioè andava primo sul pallone in area di rigore, interveniva per primo, anticipi, andava su tutte quante i palloni. Sono quei tipi di attaccanti purtroppo, soprattutto sudamericani, quindi è difficile anche da trovare, che ti possono svoltare nel caso in cui dovessero esplodere. Julian Alvarez fa queste cose, Henrik, quello è un fenomeno, è un'altra cosa, però quel tipi di giocatori là che tu sai che magari non avrà la pulizia tecnica che è fondamentale, ma ti riesce comunque a fare i suoi 15-16 gol più tanto lavoro sporco. Questa cosa serviva al Barcellona, aveva senso prenderlo, però forse un po' troppo presto si poteva aspettare un po' di più magari, farlo stare ancora in Brasile, in prestito per un anno e poi rivalutarlo. Meglio che vada via adesso in prestito che cederlo a titolo definitivo, anche se avrebbe fatto molto bene probabilmente alle casse, però a un certo punto devi anche pensare che tra un anno si gioca ancora, non è che Barcellona può vendere tutto il giocatore adesso sperando di azzeccare ogni volta l'acquisto. E fra un anno Lewandowski c'è anche un anno in più. Esatto, da questo punto di vista l'età di Lewandowski pesa, quindi tu devi avere la sicurezza che la prossima stagione, nel caso in cui lui dovesse andare via e tu dovessi prendere un altro giocatore spendendo tanto, ci devi avere però un backup all'altezza. Sì, ma poi secondo me è anche un messaggio negativo che lancia il club nei confronti di potenziali nuovi acquisti, nel senso investo su di te, poi tra virgolette ti scarico dopo sei mesi perché vedo, quindi è un po' anche un'altra dimostrazione, io ho citato prima i tre direttori sportivi che sono alternati in questi tre anni, però è un'altra dimostrazione della poca programmazione, è vero che bisogna fare sempre i conti con le casse, ma c'è una situazione delicata, viene da anni delicati, non è una situazione che ci siamo trovati adesso, ma viene da poi almeno cinque, sei, se non sette anni dove la situazione economica non è una delle migliori, però è anche un segnale perché è fondamentale in questi casi non fallire l'acquisto, nel senso devi essere mirato al 100%, non ti puoi permettere, se hai tempi di Guardiola ti potevi permettere di comprare Cigrischi per 40 milioni e poi vabbè lo rivendevi l'anno dopo perché comunque sia c'avevi un Pichet, c'avevi un Pugliola, c'avevi Mascherano, quindi comunque sia anche lo stesso errore fatto con Ibra, per esempio riuscivi a soluzionarlo perché comunque sia c'avevi una struttura solida e ti permetteva anche di sbagliare l'acquisto, nonostante che l'avessi pagato tanto, in questa determinata situazione non ti puoi permettere di sbagliare l'acquisto, anche questo secondo me. No, 100%, esattamente concordo totalmente con questa situazione e ripeto non ha fatto bene neanche il giocatore, è anche lì però il suo manager doveva forse pensare un po' più lungo, cioè forse doveva dare un piano specifico al Barcellona, chiedere la sicurezza di giocare tot partite, cioè tutti quei discorsi che chi sta fuori non è che gli interessano tanto, ma chi lavora dentro, cioè il tuo lavoro è quello, cioè devi assicurare che sto ragazzo giochi, non può essere che lui arriva e fa la tribuna a 19 anni. Sì, infatti. Ma andiamo concludendo... Diamo un'occhiata un po' alla Liga con l'arrivo di Mbappé, ma anche di Juliana, non dico che sia rivalutata, però insomma sono due giocatori importanti, arrivano in due squadre rivali del Barcellona. Cosa è legge da aspettarsi da questo Barcellona in questo campionato? E poi un'altra domanda, è così scontata questa Liga, diciamo che la vince il Real Madrid a mani basso, oppure potremmo chissà sognare una piccola sorpresa, magari non dico del Barça, magari che l'atletico possa lottare fino in fondo? Che ne pensi? Guarda, scontata io non penso sia scontata, perché non penso che questo Real Madrid abbia come focus vincere la Liga. Penso che questo Real Madrid abbia come focus la Champions League ancora una volta e la Champions League si gioca comunque in primavera. In quel momento lì penso che se una squadra ha tenuto, se fai una squadra come il Girona ha tenuto fino a quel momento il pace, la velocità del Real Madrid nei punti, secondo me se la può giocare fino alla fine, non sto parlando del Girona che se lo possa fare quest'anno, ma l'atletico Madrid o il Barcellona se gli stai dietro fino a quel momento te la puoi giocare, fino a marzo te la puoi giocare. Penso che il Real Madrid farà 90 punti, se le altre squadre riescono ad arrivare a quel livello lì se la possono giocare fino alla fine. Hai nominato l'atletico Madrid e il Barcellona, sono d'accordo con te, sono le tre squadre che secondo me che se la giocheranno in questa Liga. Rispetto alla scorsa stagione non penso che il Barcellona perda così tanti punti in situazione di facilità di avere un risultato, penso che sarà più continuo. Atletico Madrid necessariamente sarà più continuo perché è una squadra molto più forte rispetto alla scorsa stagione, si è rinforzata tantissimo, ha un 11 titolare adesso veramente di alto livello con Leonor Vanofle, Alvarez, Gallagher, giocatori di alto livello che vanno a fare parte dell'11 titolare. Ti direi, non mi sorprenderebbe se dovessi vincere l'atletico Madrid in questa Liga, tranquillamente. Il Real Madrid è più forte, è ovvio una squadra che prende Bappé, avendo già Vinicius, è più forte, però ad esempio la perdita di Toni Kroos viene un po' sottovalutata, non se ne parla abbastanza. Era il giocatore fondamentale nel sistema dell'armadio della scorsa stagione, lo si è visto in certi così, ma anche e soprattutto nella Liga. Cioè, quel giocatore che fa 90 passaggi a partita e non ne sbaglia uno, ti dà la sicurezza in alcune partite in cui il Real Madrid giocava un po' con il pilota automatico, sperando poi di vincere nel finale con una giocata, quello che lo dava Toni Kroos non se lo dava Vinicius, Vinicius faceva la giocata, ma ci devi arrivare. Come si è visto contro il Mallorca in questa partita che ha giocato adesso per iniziare la Liga. Primo tempo, devastante il Real Madrid, poteva fare tre gol tranquillamente, ne ha fatto uno. Secondo tempo non ci sono riusciti e il Mallorca ha pareggiato e ha portato a casa la partita con il pareggio. Questa cosa è tutta assenza di Toni Kroos, secondo me. Più che incapacità di amalgama dei attaccanti, gli attaccanti hanno giocato bene. Mancava controllo, mancava controllo perché mancavano i giocatori che possono dare questo controllo con Valverde, Ciameni, non hai lo stesso controllo che con Toni Kroos. Questa cosa può pesare, ovviamente, come dicevo, farà 90 punti almeno. Dipende più dalle altre squadre che darà il Madrid dalla corsa alla Liga. Invece, lo scorso anno c'è stato il Girono, come si ha presa. Pensi che possa continuare su questo filo il Girono oppure, viste le partenze, tornerà a una situazione di centro classifica come ci aveva abituato in precedenza? Eventualmente è chi potrebbe essere la quarta incomoda in questa Liga. Parto dalla parte finale. Mi piacerebbe fosse l'Atletic Club. È una questione storica di questa squadra qua, del fatto che c'è Valverde in panchina, quindi un allenatore che ha già vinto la Liga e sa cosa significa arrivare fino in fondo. È una squadra completa, con picco massimo di alcuni giocatori e il miglior Nico Williams possibile, che starà lì almeno sicuramente questa stagione. Quindi mi piacerebbe fosse questa squadra qui, magari con qualche sorpresa all'interno che esce fuori come uno dei migliori giovedì. Queste cose qua che può fare l'Atletic Club non sono molto positivo sulla realizzosità dopo averla vista la prima giornata. È soltanto la prima giornata. Vedremo, ma mi sembra che continuano a peccare un po' davanti di capacità di finalizzare. Vedremo cosa succede sul mercato. Penso che andranno per una punta. Gli serve un centravanti. Semplicemente titolare, probabilmente. Quindi questo il Girona. Il Girona ha perso giocatori fondamentali che non si sostituiscono. Non vai a rifare il centrocampo con quello che è adesso Romeo. Non è più quel giocatore là. Non hai Dovic. Vai a vedere se riesci a sostituire con giocatori che magari sono. A Berluis è fantastico. Lo adoro. È uno dei miei giocatori preferiti. Tranquillamente lo posso dire. Da quando aveva 16 anni e giocava nelle giovanili della Masia. Lo adoro. Pensavo potesse essere l'attaccante del Barcellona nel futuro. Ancora penso che starebbe tranquillamente come riserva il Lewandowski nel Barcellona. Titolare nel Girona che deve vincere la Liga. Perché penso che più di una quindicina di gol lui non so se li fa. L'anno scorso Dovic ne ha fatti 24. È una differenza di 10 gol che sono poi alla fine quelli che ti portano Io credo che sia tanto se arrivi a 10. Esatto. Volevo essere molto positivo. Quindi il Girona penso abbia perso troppo. Può ancora giocarsela per la Champions League. Stiamo scherzando. Ok. Tranquillamente. Sì. L'Europa League però mi sembra l'obiettivo più credibile per tutta squadra. Sì. E tornando alla Real Sociedade. Secondo me quest'anno hanno bisogno anche di un rinforzo dietro. Oltre che un attaccante che faccia gol. Perché se è nato Lenormand e se va via anche Merino. Va probabilmente via da quello che so. È cosa di giorni. Quindi deve assolutamente Imanolle ricostruire la spina dorsale. Quindi secondo me se non rimpiazzano. Ecco. Quanto meno con un centrocampista e un difenso centrale. Probabilmente non faranno un grosso campionato. Anche perché hanno l'Europa League. Quindi poi quando si sommano gli impegni mercoledì, giovedì e domenica. E la stagione insomma inizia a sintensa. Rispetto magari a altre squadre che non hanno che non hanno il doppio impegno. Ecco. Sì assolutamente. E il Petis potrebbe essere una delle squadre che arriva alta. Una squadra costruita bene. Vediamo. Con i pellegrini sempre come tecnico. Bene. Quindi un pronostico su Barcellona. Cosa abbiamo detto della Liga in Europa? L'obiettivo deve essere sempre quarti di finale di Champions League. Può essere raggiunto. Dipende dal sorteggio. Come sempre. Come sempre tutte le cose della Champions League dopo che tu arrivi a un certo punto dipende anche dal sorteggio. L'obiettivo deve essere quarti. Poi se li superi alla grandissima. Se non li superi va bene lo stesso. La squadra a livello è più o meno quello lì. Secondo me è raggiungibile. Vedremo. Ciave ce l'ha fatta. Vedremo se ce la farà anche qui. Ovviamente se vince la Liga e arriva agli ottavi in Champions League va benissimo. Però se non vinci la Liga e esci agli ottavi già non è la stessa cosa. Bene Daniele. Io ti ringrazio di questo apprezzio. Il tuo preziosissimo contributo sul Barcellona. E niente. Quando vuoi tornare in altra occasione è sempre benvenuto. Io ringrazio a chi ci ha seguito e alla prossima. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali Spotify, su YouTube, sulla nostra pagina di Facebook. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.